Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale Io sono Sedia di Pegasus E oggi ragazzi come vedete siamo su Assetto Corsa Ma questo non è il solito video on board che vi porto Bensì oggi andremo a provare questa meraviglia delle meraviglie Ovvero la Ferrari F310B Seconda monoposto del cavallino guidata da Michael Schumacher Qua ragazzi siamo tornati indietro di ben 21 anni Sì perché questa vettura è visata a lontano 1997 Con questa vettura Schumi ha quasi spiorato il titolo di Dato Però purtroppo per chi sa la storia è andata in modo diverso Comunque ragazzi io direi di non perderci più in chiacchiere E di iniziare subito la nostra prova Ok ragazzi ci siamo Siamo pronti per scendere in pista Let's rock Ecco sentite questo sound ragazzi Sound del motore V10 per cari Questa è la vera Formula 1 Questo è il vero sound Questi sono veri motori Non dove attuare parvo il mio ultimo test Che sono insulto alla Formula 1 Secondo il mio punto di vista Ovviamente ragazzi non parlerò tanto Perché sarò molto concentrato alla guida E questa vettura non sarà facile da guidare Scaldiamo per bene le bombe Sì 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 Grazie a tutti. Mamma mia, la stavo per perdere già. Incredibile. Vai, facciamoci. Aia. Oh, guarda, lo vi c'è in pieno. Oh, mamma mia. Oh, guarda, lo vi c'è. 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 A questo gioco voglio scungere un po' più a minimità Va bene, come non ho detto Mannaggia la miseria Grazie a tutti Eh, proprio sei cattiva sei Non vorrei capire un gioco come si deve 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 Un gioco come si deve Un gioco come si deve Ok, possiamo avviare un gioco come si deve Voilà Ce l'abbiamo fatta E' un gioco come si deve Un gioco come si deve Un gioco come si deve Un gioco come si deve